Nel corso della quarta edizione del premio Monsignor Francesco Sannino è stato premiato con una borsa di studio il 17enne che nei giorni scorsi ha salvato un uomo a bordo di un motoscafo in avaria, a largo della costa di Torre del Greco. In particolare il giovane, avendo fin da subito compreso il pericolo che stava correndo l'uomo in balia del motoscafo, si è prontamente attivato per soccorrerlo. Una vicenda da Leto Fine che vasta a 17enne studente dell'istituto nautico Cristoforo Colombo di Torre del Greco, la borsa di studio consegnata gli durante l'evento di ieri tenutosi al circolo nautico del comune Corallino. Presente anche il sindaco della città di Torre del Greco Giovanni Palomba che ha premiato il giovane eroe. Profondo orgoglio palesato anche dallo stesso istituto Colombo, dove durante l'estate vengono svolte molteplici attività per mantenersi agli studi, riconosciute dal volta anche come PCTO. Nei prossimi due anni, inoltre, è prevista l'attivazione della nuova sede, che implementerà ulteriormente l'attuale offerta formativa.